Grazie a tutti. Non è una situazione che dà un risultato, perché si hanno dei buoni geni, si sono scelte dei buoni genitori, perché si è vissuto una vita di cautele. E' una cosa che si acquisisce e devo dire che recentemente, all'alba del nuovo millennio, quindi la fondazione che ci ha invitato qui oggi, che ci ha dato attraverso questa notazione di presentarli, si è potuto assistere al cambiamento rispetto a quelle che erano le terrificanti protezioni che venivano fatte una qualche anno fa, anziani malati, anziani dementi, anziani privi di assistenza, perché le risorse non resteranno, perché la malattia sarà endemica, l'epidemia del nuovo millennio, tante altre cose, campane, epidemiologiche che hanno dimostrato una crescita esponenziale. Quindi tutte queste cose sono state modificate in maniera ottimistica, perché certamente c'è l'appunto del fatto che l'abilità della popolazione potrà crescere, che è stato detto anche se la nostra professoressa di addomino, se la mia aziendessa, che in Italia ha di più oltre 80 anni, sono più di 3 milioni, e rapidamente, nei prossimi 30 anni, il numero degli anziani supererà il numero dei nuovi anni. Ma quello che dobbiamo tenere presente è che certamente tenderanno a crescere gli anziani con un po' connessione collettiva, ma questo si presenterà soprattutto nei paesi in via di sviluppo, perché naturalmente le state connessioni di vita, l'inistrazione, lo sviluppo industriale e l'economico produce ovviamente una longevità maggiore in queste regioni, non ci sono ancora tutte quelle risorse, tipo medico e culturale, che permettono un po' di vari conto di un impegnamento. Allora, se posso andare avanti, naturalmente esistono recentemente, sono state presentate, sulle viste prestigliose, una, per esempio, delle revisioni, quelle che si chiamano meta-analisi, cioè delle sistematiche revisioni che vengono conto di tutta la letteratura scientifica esistente, che dimostrano come le aspettative di crescita della conclusione cognitiva, si sono rivelate false, che si sono rivelate false, i studi e i tipi di tecnologici di grandissimo livello. E' vero che la spesa in Europa attualmente è elevatissima, più di 100 miliardi di euro costa l'assistenza in Europa, globalmente, ma è anche vero che tutto questo non è soltanto la risorsa che gli alziani possono offrire, ma anche la necessità di essere assistiti e quindi la necessità di investimenti. Però che si è visto, e mi piace ricordare il periodo della Nazionale Bioetica, che è l'anno scorso, non è soltanto da un anno, ma ho venuto a proporre, come una delle ultime, diciamo, espressione di arrivato, un approcciamento forte a favore della ricerca e dell'attività assistenziale e a sottolineare come Nazionale non è una paratidia che colpisce l'ansia, non soltanto.